Siamo in compagnia di Federica Mangiacasale che viene da Cosenza e fa parte delle organizzatrici dell'autobus, io potrei dire anche del primo gay pride calabrese, giusto? Sì, vabbè, faccio parte del coordinamento perché sono in Cisenza e Neos e in più abbiamo dotato questo onore di organizzare l'autobus. E com'è stato? Ci sono state molte adesioni? Com'è stato soprattutto il viaggio in autobus? Il viaggio in autobus è naturalmente fabuloso, ma nessuno aveva dei dubbi. Adesioni sì, noi siamo riusciti da due autobus, dall'altro ci sono arrivate tutte le richieste, ma poi per una questione di organizzazione abbiamo dovuto bloccare, però in volte si sono organizzati in macchina questo insieme di persone che conosco. Vogliamo dire anche che comunque a questo pride, a quanto vedo, non ci sono persone che è i lesbiche, transgender, ma ci sono persone eterosessuali, ci sono mamme, ci sono bambini, ci sono persone che comunque sostendono la comunità e l'ERGB, perché comunque la battaglia di diritti è una battaglia di loro. E' assolutamente di tutto, ce li ho visti tantissimo, ho visto anche dei bambini, hanno che stanno incontrando anche i cani, nel senso, no, non ci sono solo persone della comunità ed è... penso che sono belle e nessuno. Federica, secondo te qual è l'emozione più forte che stai provando in questo mondo? Non lo so, io oggi sono solo, forse stasera riuscirò a razionalizzare un pochino, ma per il momento la domanda è difficile. Va bene, dai, ti lascio all'organizzazione perché vedo che comunque qua si sta riempiendo, la villa comunale di Reggio Calabria si sta veramente riempiendo, quindi buon primo Pride Calabrese anche a te e anche a tutti quelli che comunque stanno qui in questo momento e che vedranno questo video. Grazie Federica Mangiacasale e Osterci Gay di Pusenza, organizzatrice di uno dei due autobus che sono qui oggi. Sì, ciao! Grazie a tutti!